Mister Fregnani, una gara equilibrata nel primo tempo, nella ripresa, il Pietracuda ha fatto decisamente meglio, un punto con la capolista non va mai gettato nel cestino ma oggi si poteva anche vincere. Sì, penso che ai punti abbiamo vinto ma purtroppo vince chi la butta dentro, abbiamo preso due pali, il loro portiere ha fatto una parata importante, però purtroppo abbiamo raccolto un punto che con la capolista è sicuramente un buon risultato però diciamo che nei 90 minuti forse potevamo vincere. Una delle gare più belle del Pietracuda in stagione, vedendo le tante assenze, numerose, ma anche perché la squadra anche nei momenti di difficoltà ha saputo reagire ed è sempre rimasta sul pezzo. Sì, abbiamo avuto un inizio un po' difficile perché ci mettevano in difficoltà sulla nostra destra, siamo riusciti a ovviare a questa difficoltà e poi dopo penso che abbiamo fatto bene. Siamo arrivati parecchie volte al tiro, altre volte con un pochino più di calma potevamo fargli più male perché abbiamo sbagliato parecchie volte l'ultima scelta o comunque l'ultimo passaggio, però credo che la squadra abbia dimostrato di valere e di essere in tutti i suoi elementi. Come dicevi te le tante assenze, ma come sappiamo abbiamo elementi di valore in tutta la Rosa. Una curiosità, nel primo tempo hai rinunciato a Giannini, una forma di tutela da parte tua vista la munizione ricevuta o ti ha chiesto lui cambio per guai muscolari? No, Gabri ha avuto, rientrava praticamente, è rientrato domenica in panchina e rientrava oggi, non ha avuto problemi però era un attimo in affanno anche perché il loro dieci era molto molto bravo, con le giocate lo metteva in grossa difficoltà. Avevamo inizialmente difficoltà a centrocampo, infatti Lotto, Fede Fabri è prevalentemente un difensore, avevamo la possibilità di cambiare, avevamo Gesseroli in panchina che in settimana aveva avuto dei problemi lavorativi, quindi abbiamo optato per quella scelta che ci sta perché comunque le partite nascono in una certa maniera e lì Gabri ha avuto un po' di difficoltà ma penso che è fondamentale per noi perché è già un 2004 che ha due anni di categoria e appena si riprende bene fisicamente e oggi noi non l'abbiamo aiutato nei primi minuti ci darà una grossa mano. Mister Marchini, numerose l'assenza da una parte e dall'altra, alla fine un buon punto conquistato su un campo difficile contro un ostico Pietracuto, il tuo punto di vista? Punto di vista dico che è stata condizionata tantissimo dall'arbitraggio, come sai un giocatore munito che gli abboni tre falli e non dico uno o due, tre falli, di che l'allenatore loro l'ha cambiato, questo vorrebbe far capire che l'errore che ha fatto l'arbitro perché vai, mancavano ancora 20 minuti del primo tempo e rimani in dieci qua in un campo che è dura perché si sa qua è un campo però alla fine e alle prime due occasioni ci ha munito il nostro giocatore su falli che giustamente c'erano ma non da munizione e quindi secondo me è stata molto condizionata dall'arbitraggio. Arbitro permettendo che a mia giudizia condizionata a me due le parti, la tua squadra ha giocato un buon primo tempo, nella ripresa ha concesso troppo all'avversario? Sì, hai detto bene, abbiamo regalato troppo, c'erano alcuni giocatori un po' stanchi che volevano fare la giocata loro invece di fare le giocate che proviamo, però ci può stare, pensiamo sempre che il nostro campionato è al di sopra anche di quello che stiamo facendo, quindi va già bene così, c'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Tu e la diligenza ha sottolineato il fatto che state facendo un campionato sopra le righe, ma considerando che il calcio è fatto anche di favole, Chievo Verone e Castelli Sangori segnano, dove può arrivare questo gran amica? A noi guarda, ti dico la verità, pensiamo partita dopo partita, penso che siamo l'unica squadra, non solo in Italia, che gioca con 6-7 under e sei primi in classifica, viviamo la giornata, è bello, però sempre con i piedi per terra, guardiamo in settimana in settimana. Vedendo anche quello che dicono i tuoi colleghi di te, cosa si dice nel bolognese, dove sta il merito di Mr. Marchini? Quali punti hai toccato in questi anni insieme alla diligenza per mettere in vetrina un simile progetto? Io credo che innanzitutto devi guardare le persone, i giocatori che umanamente capiscono quello che vuole l'allenatore e su questo sia la società che io sono stati i nostri primi obiettivi, quindi non mi meraviglio, ecco, quando hai dei vecchi che seguono e hanno la mentalità giusta, tutto viene più facile. Grazie. Grazie.